Nella casa del grande fratello si è verificata una discussione vivace al mattino presto, culminata in accuse esagerate che potevano sfociare in presunte problematiche di tipo razziale, anche se per fortuna ciò non è accaduto. Rosie ci ne ha chiesto a Federico Massaro di concederle spazio al lavandino in bagno, ma il ragazzo si è lamentato di essere stato bagnato dalla coinquilina. Non ho dormito bene, ma non è vero che sono arrabbiato con te o che mi usi come sfogo. Stavo solo usando il lavandino e ti ho detto di unirti a me per lavarti, ma ti ho chiesto gentilmente di non spruzzarmi, punto. È questione di educazione. Rosie ha reagito in modo molto agitato, punto cosa. Sono venuta qui per dirti che c'era la mia trusse e che volevo lavarmi lì perché mi era più comodo. Avevo gli occhi quasi chiusi, come avrei potuto sapere se ti avevo bagnato? E non mi devi dire, punto. L'educazione include anche non essere prepotenti o presuntuosi. Non potevo sapere se ti stavo bagnando. Tieniti lontano da me, punto. Mi prendi in giro come un ragazzino. Non devi assolutamente dire, punto, a me. Sei maleducato. Questo qui è venuto a comandare su di me. Federico ha concluso la discussione mandando via Rosie. Impara a essere educata. Poi gridi per una sciocchezza del genere. Io maleducato? Tu sei stata maleducata? Continui a urlare? Vai via. Pochi istanti dopo la discussione, Rosie è andata nel giardino a raccontare una versione alterata degli eventi agli altri coinquilini. Ha fatto accuse esagerate, sostenendo che Federico le avesse detto di tornare al suo paese. Ha detto cose pesanti. Ha detto stai zitta, punto, impara l'educazione e poi torna al tuo paese. Ma io sono già nel mio paese. Fortunatamente, Anita, presente durante la discussione, ha corretto Rosie, non ha detto così. Ti ha detto vai via. Resta il dubbio se Rosie abbia frainteso un antico modo di dire cinese. Torna al tuo paese. Oppure abbia interpretato male le parole di Federico a causa di eventuali malintesi. La verità verrà fuori solo vivendo la situazione.